Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, sono sempre io, Legoste90, ed oggi creiamo la nostra auto dei sogni senza alcun limite di budget Abbiamo così tanti soldi che ci fanno quasi schifo e quindi possiamo comprare qualsiasi auto Però per rendere tutto più credibile non è sufficiente dire che siamo pieni di soldi, magari rendiamo tutto più credibile Vi do qualche opzione, per esempio siete diventati degli youtuber e come notoriamente tutti noi sappiamo lo youtuber è ricco sfondato E quindi potete comprarvi una supercar, chiaramente potete votare utilizzando le schede, qua vi darò alcune opzioni per poter decidere quale è il ruolo che voi volete adottare Oppure seconda opzione, nella illegalità, facciamo che qualcosa di illegale come avete fatto una rapina in banca, lingotti d'oro, banconote, tutto quello che volete Siete ricchi e potete comprarvi l'autore dei vostri sogni Oppure come terza opzione, diciamo finta per esempio che vi siete innamorati di una ragazza, poi vi sposate e scoprate E scoprate, scoprate, ok? Vabbè fate scoprate, scoprate, fate quello che volete, questo è un altro discorso Ma scoprite, ecco, che questa ragazza è piena di soldi Fantastico, e quindi ci possiamo comprare la nostra supercar Ok? Votate, mi raccomando, voglio sapere quanti maniaci vogliono diventare youtuber, quanti persone vogliono fare rapine Ma adesso siamo pieni di soldi, che auto vorreste? Ok? Magari sono sicuro alcuni, vabbè io, Lamborghini, Aventador, insomma, cioè, che voglio dire C'ho tutti i soldi che voglio, ma la prendono, Lamborghini Oppure qualcuno magari vuole spostarsi a Ultramanica Qualcuno con, vabbè, una McLaren, la McLaren, a me non piace molto Comunque, che ne so, uno gli potrebbe piacere la McLaren Altri, che ne so, l'Apollo, la Collinsberg Oppure, vediamo un po', insomma, ci sono tante supercar fighe Ferrari, cioè, io rimarrei più nell'italiano, perché, insomma, la Lamborghini, Ferrari Ditemi che auto volete, potete commentare qua sotto, facendovi sapere, ecco, i vostri gusti Così capisco se avete dei buoni gusti, oppure avete dei gusti di merda Ma questo è un altro discorso Personalmente, io invece, niente supercar Come niente supercar? Sì, perché la supercar darebbe troppo nell'occhio, ok? Io vorrei anche un'auto di tutti i giorni, l'auto con cui potrei andare a lavorare Cioè, se sono ricco, sono andato, non ci vado a lavorare Vabbè, l'auto che vorrei, è questa qua È stupenda quella macchina La vedete dal vivo e dite Vi trasmette veramente cattiveria Cioè, è grintosa Cioè, mi piace Ok, certo, mi piacerebbe tantissimo Magari, cioè, qualcuno di voi avrà scritto nei commenti Sì, sì, mi piacerebbe la wire della Pagani Sì, certo, un milione di euro Ma hai fatto bene, perché te la puoi permettere In questo modo Noi oggi ci possiamo permettere tutta qualsiasi cosa E oggi ce la configuriamo insieme Quanto spenderemo? Lo scopriamo subito Partiamo bene, direi Sono praticamente solamente 80.000 euro di base Ma quali sono i nostri problemi? Tanto abbiamo detto che i soldi non sono un problema Ma quale cambio scegliere? Meccanico o automatico? Io direi l'automatico perché il cambio al volante con le palette Tanta roba Partiamo subito quindi dal colore Che colore volete che prenda? Allora, i colori sono belli Allora, c'è il colore base pastello Non costa niente Rosso alfa zero Però, ragazzi, l'ho vista dal vivo Belli questi metallizzato Ma il rosso corso tristrato Ma cos'è? È stupenda L'ho vista dal vivo un po' di volte Cioè, qui a Torino, da Mirafiori Dal vivo veramente È roba da farsi una pippa Ok, va bene 2400 euro solo il colore Tristrato rosso competizione Sti cazzi, va bene Andiamo avanti Gli interni Allora, negli interni Tra l'altro non mi fanno vedere Va bene Bellissimo questa ripresa della macchina Ma non fa vedere molto bene i sedili Quando io devo scegliere i sedili Mi fa vedere la capote Il couscous Non va bene Voglio fare Sedili rosci? No, i rossi non mi piacciono i sedili Mi piacciono classici Con l'alcantara vivo lì davanti a me Non cambia niente Cioè, il rosso Ah, cambiano le portiere No, io direi Me le lascio Grigio scuro, nero Con le cuciture rosse E siamo a posto Andiamo avanti Cioè, i cerchi ragazzi Ma che sta pacchianata Di acciaio No, no, no Io li voglio pruniti Tra l'altro Boia faus 19 pollici cerchi Voglio vedere quanto ti costano i pneumatici Ma io non sono un problema Io non devo preoccuparmi Allora, andiamo C'è questa versione Belli Poi, almeno immagino con le pinze rosse Belli Questi sono belli Cerchioni 500 Ho detto che non dovevo dare il prezzo 500 euro di cerchioni Ma va bene Non costano neanche tanto Quindi come optional ci sta Andiamo agli optional Gli optional ci sbizzariamo È tutto di serie E che cazzo sono optional a fare Se sono di serie Cioè, optional Serie Cioè, allora non è optional Cioè Cambio automatico Ci credo che di serie Perché me l'ho comprato La versione col cambio automatico Ugelli riscaldati per il tergicristale Ugelli riscaldati per il tergicristale Sciccheria Bocchette da reazione posteriore Meno male Sono uccidevati i passeggeri di Esra Senza Va bene Kit fumatori Non ce lo metto Perché in macchina non si fuma In macchina non si fuma La gente che fuma in macchina Oltre che odio il fumo in generale Però la gente che fuma in macchina È da far fuori Perché poi impregnano i sedili Impregnano la macchina No, va Funzionalità tecniche Dischi, freno, carboceramica Ma neanche a chiederlo Per la sicurezza Prima di tutto Alla sicurezza Si spende qualcosa in più Ma l'importante è viaggiare sicuro Quindi 7500 euro Di freni, carboceramici Per la sicurezza Non perché Puoi fare le staccate al limite Si Rete cargo Credo che sia la rete Nel bagagliaio Per evitare che Che cadaveri volino Da un lato all'altro Ma credo che Di trame neanche a meno Via la rete cargo Non la mettiamo Sedili Sparco con guscio in carbonio Che non ci sono già Li mettiamo subito 3500 euro E via Cioè sono praticamente uguali agli altri No, sono un po' più sottili C'hanno quell'intaglio Per la reazione sul collo Vabbè Mi piacciono Tanto Sono in carbonio Quindi sono più belli Cristalli posteriori Che Ho lasciato quei cerchioni apposta Fammeli vedere Caricalo Mamma mia Ma poi lo vedete Quel carboceramico Mamma mia I freni sono una cosa stupenda E le pinze rosse Ragazzi Un tocco di stile Dovrebbero metterli di serie Volante in pelle alcantarie Con inserti in carbonio Ma certo La leggerezza Sentirò L'alco e l'alcantarie Nel materiale stupendo Di serie Abbiamo pinze freno nero Che non l'abbiamo cambiato Beggi quadrifoglio Ce lo mettono Per farci Per far notare Che siamo Sbroni Pedaliere sportive In alluminio Ma molto bene Tra l'altro è tristissima La pedaliera Dei cambi automatici Perché hanno due pedali Freno acceleratore Cioè Non in questo ordine Freno acceleratore Non nell'ordine Acceleratore e freno Ma questi sono dettagli Troppo bella sta macchina Sicurezza Cosa abbiamo Adaptive Cruise Control Beh sinceramente Non è la macchina Che mi comprei Per andare a fare I viaggioni Perché è una macchina Del genere Se mi faccio 300-400 km Per andare Che ne so Al mare Mi parte uno stipendio Di benzina Dipende come vale Cioè L'adaptive Cruise Control È quello adattivo Se c'è una macchina davanti Si adatta La sua velocità E mantiene la distanza Se non sbaglio E sinceramente Per l'uso della macchina Che devo fare Io mille euro di risparmio Perché non voglio buttare i soldi Non buttiamo i soldi Sistema di allarme Perimetrale Volumetrico Decisamente sì Credo che sia quello Che quando si avvicina qualcuno Salta fuori una minigun E gli spara Perché noi non vogliamo Che nessuno neanche tocchi La nostra macchina Già guardarla No guardarla può Perché deve guardarla Ma che qualcuno Si avvicina E per caso Con la manina Toccasse la mia La mia portiera La fine del mondo Soprattutto se apre la portiera Vado al supermercato Con questa macchina Io non la parcheggio Cioè mando qualcuno A fare la spesa A posto mio E io rimango in macchina E controllo che nessuno Mi apra la portiera Perché se qualcuno Mi bolla la macchina Con la portiera Io Il collo Libretto portoghese Non ho la mia idea Perché metterlo come option Ma costa 0 euro Io ce lo metto No volete mettere il libretto In portoghese Books for Switzerland Anche in Svizzera Lo mettiamo Non dimmi che uno Esclude l'altro Perché sennò Meno male Possiamo averli entrambi Quindi ne vale la pena Cosa c'è in varie Corso di guida Evoluta Presso 100 internazionali Di guida Assicura a Dorado Credo che sia già Troppo lontano Non c'ho voglia di andarci Ancoraggi Vanno di carico Non so cosa sia E non li metto Cioè potrei informarmi Ma non c'ho voglia Optional Nei pack Pec sedile Elettrici Quattro fogli No perché abbiamo visto Quelli della Sparco Certo pecsound 14 autoparlanti Non E aumenta il peso La domanda è Prestazioni Sinceramente Non li metterei Keyless Keyless Entri Fechissimo Lo mettiamo E' quello che tu ti avvicini Con la chiave Non hai bisogno Di cliccare il bottone E apri la portiera Senza perché c'è in tasca Una cosa E' bellissima Ce l'abbiamo sul Su Renegade E' una cosa fantastica Il Keyless Possiamo già andare A ripilogo Quanto ci costa Tutto questo L'ho già visto Ma La nostra vettura Dei sogni La mia perlomeno L'auto che vorrei L'auto che vorrei Costa 97.600 euro Squisquiglie Cosa che non potrei neanche comprarmi Vendendo il Rene E forse anche il culo Mi potrei sbattere un sacco O meglio Essere sbattuto un sacco E probabilmente non potrei Comparmelo lo stesso Ma probabilmente Questo non è un problema E non spero che non lo sarà mai La nostra quadrifoglio 2009 V6 B-tubo Da 510 cavalli Limitazione benzina Cambio automatica Posteriore Trazione posteriore Colore Il rosso competizione 2400 euro Cerchi da 500 euro Di extra Interni Tutti i nostri optional Tra cui Ti schifo Carbio ceramici Non posso toglierli Perché comunque Sono per la sicurezza Sedd di sparco Per la comodità Che mi viene proprio Da strega Mentre guido Pack Messo Pack Convenienza Solamente 97600 euro Questa è la mia auto di sogno Se io dovessi comprarmi un'auto E potessi comprarmela Probabilmente comprare questa Non una Lamborghini Non una Bugatti No Io vorrei questa E voi Quale auto desiderate Quale auto Quale auto vorreste Ecco Potete commentare qua sotto Dicendomi il modello dell'auto E magari Facendo magari Tutto quello che può essere La configurazione O il modello di base Perché magari Una Lamborghini Aventador Penso che non abbia bisogno Di un configuratore Quanto spendereste Quanto Quindi auto E la vostra cifra esatta Oppure potete anche votare Qua sopra Con un range indicativo Di quanto Si aggira La cifra Della vostra auto Dei sogni Sono molto curioso Per oggi Questo è tutto Io vi ringrazio Per la vostra gentile attenzione Spero vi sia piaciuto questo video Credo ne farò altri Per esempio Però ecco Tutto dipende anche da voi Se vi fosse piaciuto questo video Quindi lasciatemi al comando Un pollicino in su E se ci fossero molti pollicini in su Se vi fosse piaciuto questo video Sarò convinto Che potrà piacerevi Anche il prossimo Che avrà una impostazione Simile a questa E' tutto ragazzi Un augurio di buona giornata Di buona continuazione di giornata Buona serata E ci becchiamo Su questo canale Con i prossimi video Chiaramente per non perderli Esatto Iscrivetevi Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti